Il Traffic Sign Recognition è un sistema di assistenza alla guida che rileva automaticamente determinati cartelli stradali per aiutare il guidatore a rispettare i limiti di velocità e i divieti di sorpasso. Il sistema è sempre attivo all'accensione del veicolo e può essere temporaneamente disattivato selezionando il menu Driver Assistance del display touchscreen di bordo e Traffic Sign Recognition. Agendo sul menu Settings è possibile inserire un avviso di superamento del limite di velocità. Il sistema rileva la segnaletica stradale tramite una telecamera posizionata nella zona superiore del parabrezza del veicolo che individua lungo il percorso i cartelli stradali che segnalano limiti di velocità, limiti di sorpasso o di fine di divieto, limiti di velocità condizionati. I segnali sono rappresentati in tempo reale sul quadro strumenti. Se il cartello non è sufficientemente visibile verrà rappresentato con dei trattini. Determinati segnali di limite di velocità condizionata verranno rilevati solo in alcune situazioni. In caso di nebbia solo se le luci fendinebbia o retronebbia sono accese. In caso di pioggia solo se i tergi cristalli sono già in funzione. In presenza di neve solo se la temperatura esterna è inferiore a 3 gradi centigradi e i tergi cristalli sono già in funzione. Con rimorchio solo se è stato collegato al veicolo mediante connettore e luci.